Salve a tutti ragazzi con Shadow, oggi siamo qui in questo inizio video dove andremo a fare una cosa un po' particolare Rebuilding della Juventus In una stagione vedremo un po' cosa possiamo fare con tipo 160 milioni che abbiamo Più appunto i soldi che faremo vendendoci tutta la squadra Obiettivo? Mi posso tenere soltanto due giocatori Sì, due E gli altri li devo cambiare tutti, sostituire, scambiare, vendere Potrebbe uscire una cosa molto figa, ma molto figa L'ho vista a fare a tanti youtuber, ovviamente non è un'idea mia Io ora vado, non qui casomai, vado a mettere in vendita tutti i giocatori della rosa Allora, allora, allora Il problema è che sto prendendo giocatori, non vi faccio spoiler della rosa Il problema è venderli Aspetta, riesco a non farvi spoiler, ok? Il problema è venderli Perché alla fine non ho venduto quasi nessuno E quanto ho di budget? Non voglio spoilerarvi la squadra che ho fatto grandi acquisti 62 milioni che dovrebbero almeno Allora, vedo se riesco a non spoilerarvi Vado un attimo in lab mercato Non mi dire quanti ne ho presi Ok Vabbè, vi ho spoilerato un acquisto, però dopo lo vedrete Devo andare su Offerte ricevute, suppongo Eh, però devo passare per forza Non avete visto niente Ok, quadrato lo devo vendere, però soltanto 13 milioni Sono pochi, e molto pochi, però Sì, lo vendo E l'abbio 25 che sono già accettabili Però se ne devono andare Comunque qui mi volevano dare Kvarascelia Kvarac, vabbè Eh, che avrei messo Perché alla fine, anche se un 74 sostituito è un ottimo giocatore alla Juve Farebbe comodo nella realtà Però, eh, no, è stata rifiutata l'offerta Cioè, anche se me l'avevano inviata loro Io l'ho accettata È fallita E ora provo a fare gli altri acquisti Gli altri colpi di mercato Vediamo un po' se vanno via rabbio e quadrato Allora, ho finito, ho finito Eh, ve li faccio vedere tutti Questa è la rosa finale Allora, abbiamo in porta Onana Ho fatto moltissimi scambi Quindi alcuni nostri giocatori Tipo 2-3 in Serie A saranno anche Onana Poi Matip e Van Dijk Tutto la difesa del Liverpool E Pereira Riccardo e Gaia Che vi ho già spoilerato prima Arnold del Wolfsburg Thiago Jordan Henderson Vlaovic e Chiesa che c'erano già E Politano Che non è uno squadrone Perché avevo un budget limitato Eh, però Devo un attimo vedere Chi se ne va Perché Tipo Bonucci potrebbe giocare Dov'è Bonucci Alexandro no E mi sa che tra un po' se ne va anche Non potrebbe giocare Ma si cede Ma c'erano i soldi Per c'erano i contratti Vabbè Potrebbe essere esonerato Molto facilmente Locatelli Eh, si Termina il prestito Eh, poi c'è Qualcuno che potrebbe giocare A chi Che è falso A chi è falso Kulusevski è in prestito E nessuno Credo Moise Ken forse Vabbè Casomai No E ecco qui la rosa Finale Abbiamo svincolato I problematici Forse Alexandro e Danilo Danilo non so se se ne è già andato Però vabbè Le ho vendute di tutte e due Se ne dovrebbero andare a breve E si va a simulare Tutta la serie Ci vediamo Prima gennaio E poi Vediamo un po' Eh Cosa ha fatto Questo rebuild Della Juve Comunque secondo me Era più A parte un po' La difesa Tipo Era più forte La Juve normale Vediamo anche Cosa parla in Champions Sarà una stagione Ma soprattutto Ditemi se lo volete Con altre squadre Questo tipo di video Allora Non è andato per niente male Devo dire Cioè Abbiamo perso un po' Di partite inutili Tipo un 3-0 Contro la Sampdoria In classifica Allora Vediamo un po' Gli overall Non è sceso nessuno Anzi Tranne Matip Ma anzi Sono saliti Anche non di poco Tanne Politano Che mi aspettavano Una crescita Vabbè A parte che ha 28 anni Soffriva Neanche i 28 anni Che i 28 anni Oh Primi Non me l'aspettavo Dai Rebuilding Perfetto Cioè Primi Ma hanno giocato loro Vediamo un attimo Se hanno giocato loro Statistiche Squadra E ho visto Tra i terzo Nei marcatori Un mio giocatore Ha giocato Onana Blaovic Chiesa Napolitano Arnold Anderson Hanno giocato tutti Un po' di partite Rovelle E fagioli Anche Si hanno giocato tutti I 17 E li sono subentrati Per era De Sciglio 12 TD Scusa Ha giocato TD Sia Riccardo Sia De Vabbè Non veniva sostituito Sempre Tipo Che vita schifosa Non dire altre parole Che iniziano con la M E chiesa Terzo A 12 gol Vediamo un po' Ehm Nessun altro Ok Politano A 8 E basta Ora ci vediamo A fine stagione Per vedere un po' Il resoconto finale Allora Ehm Ok Che schifo Vabbè E' finita Da esonero Più o meno Vediamo prima le altre cose Prima di vedere la posizione In classifica Chiesa secondo E Blaovic quarto 21 gol E 20 gol Quindi Non ci siamo Andati leggeri A gol E Politano Sicuramente c'è Dai E Politano 23esimo A 10 gol Poi vediamo In generale E la squadra Com'è andata Si è giocato Chi doveva giocare Ma Suppongo di si Ho cliccato su Inter Per sbaglio Ah c'è Shesny All'Inter E' vero E Allora Unana ha giocato Blaovic Sì Tutti Più o meno Quelli con più partite Arnold Ne ha saltato qualcuna Vabbè Niente di così grave Matip 14 Scusa che Ha giocato De Sciglio No vabbè De Sciglio Al posto di Matip Rugani Rugani Ha rubato il posto a Matip Ma dai Rugani No Rugani C'è non è possibile Non mi puoi rubare il posto ai titolari C'è Mamma mia Rugani No C'è mi ha rovinato il video Ma ti rendi conto Vediamo poi I centrocampisti hanno Assistman Voglio vedere Voglio vedere gli assistman Tra l'altro stasera E Aspettate È Domenica 13 novembre E gioca Juventus Lazio Ci contendiamo Il terzo posto Diciamo Poi se perde il Milan Anche il secondo E 2022 Perché stesse guardando il video Tra 40 anni Magari Il mio canale Duri 40 anni E Ok Che dovevo vedere Ok Assistman Politano Prima 15 Ha compensato La mancanza Cioè in realtà L'ha fatto i gol Però vabbè Settimo Chiesa Anderson 21esimo Comunque Il tridente Ha funzionato benissimo Cioè hanno fatto Una caterpa Di gol Mamma mia Che tridente Tridente Della morte Vediamo un attimo La rosa Ok Politano è salito di 2 Matip 84 Ma perché Ma se si sarà infortunato Sarà tornato ora Cioè è impossibile Che ha giocato Rugani Scusa Quanto ha di overall Tecnicamente Perché si Conta per giocare De Sciglio 76 Entrava ogni partita 77 Cioè perché ha giocato Al posto di Matip Ma Non le capiremo mai Queste cose Van Dijk Che più o meno Era l'acquisto forte Che mi ha anche costato Un rene Tipo Pogba Più 50 milioni E Pogba Già ne valeva una sessantina E Tiago Alcantara E vabbè Cioè Non è andata male Questo tridente È veramente mostruoso Cioè Lo gli proporrò Su Ultimate Team A parte Un video su Ultimate E vabbè No Cioè Non mi va Sinceramente Già mi sono stupato Molto in anticipo Però mi diverte molto Fare questi esperimenti In carriera anche E Per ultima cosa Vedrei Vedrei La posizione Primi Perché ci stavano Per esonerare Siamo arrivati primi Mamma mia Che Juventus La Juve Da Scudetto Guardate la prossima Juve Che vincerà Lo Scudetto A parte per fare Tutti questi acquisti Tranne Chiesa e Braovic Chiesa che è rotto Vabbè E Braovic Niente E Ci vorrà Vabbè La prossima Champions La Juve E il prossimo Campionatore Vinceranno con questa squadra Cioè Ci vorrei io Come mister Esonerate Allegri Guardatelo lì Esoneratelo No io voglio Lesoner Di Allegri Cioè Guardatelo che bello Vabbè ragazzi Io concludo Quel video Sono rimasto Paricchio soddisfatto Forza Juve Stasera Anche contro La Lazio E Devo dire Che Non ho più Niente da dire Bellissimo Campionato E ditemi Se volete Questi generi Di video Con altre squadre Di video